Alleluia, alleluia, pace cari fratelli e sorelle, alleluia, siamo qui a Baiano a evangelizzare, pregate per noi cari fratelli. Comfiano per te, confesso i tuoi peccati, cari fratelli, buongiorno, Dio vi benedica, siamo qui a predicare il messaggio del Vangelo, come gli andavano da Portoli, che andavano per le strade, per le piazze, per i mercati, ad annunciare Gesù Cristo a me, Gesù è risorto, il terzo giorno, la tomba di Gesù Cristo, Alleluia, Gesù è alla destra del Padre, alleluia, spezza le cartine, alleluia, alleluia, avvicinati a Gesù, gloria al tuo nome Gesù Cristo, la risposta per la tua vita, tu che sei anche qui a casa, nella camera, tu che sei a lavoro, tu che sei per strada, Gesù Cristo è la risposta alla tua vita, Gesù Cristo può risolvere il tuo problema, alleluia, Gesù è la via, la verità e la vita, cari di Baiano, solo Gesù ti può salvare, Alleluia, spezza le cartine, alleluia, è morto per i nostri peccati, alleluia, e il terzo giorno è risuscitato dai morti, non è una religione, non è una messa della domenica, Alleluia, gloria, ma è la via, la verità e la vita, gloria al nome del Signore, Gesù Cristo è il Signore, Gesù Cristo è il Red e Re, alleluia, Gesù Cristo è l'agnello di Dio, che toglie il peccato dal mondo, alleluia, è il tempo di avvicinarsi a Dio, e Dio si avvicinerà a voi, è il tempo che accettate Gesù nel vostro cuore, nella vostra vita, è il tempo che riconosce la speranza, alleluia, 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 gloria al tono, Sì, Signore Gesù, tu sei buono, Signore, è la tua bontà che dura ed eterna, alleluia, alleluia, osana, Gesù è la luce del mondo anche qui per Baiano, guardate lì dal padricchiero, Gesù Cristo morì per i nostri peccati, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, gloria a Cristo, del Signore Gesù, siamo qui in un rione, gloria a Dio, fratelli e sorelle, tante anime stanno ascoltando dai negozi, dalle case, alleluia, alleluia, santo, Gesù morì per i nostri peccati, alleluia, 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 solo Gesù ti può perdonare i tuoi peccati, corri a Gesù in questo giorno, alleluia, ameluia, alleluia, alleluia, gloria a Dio, continuate a pregare, c'è lì, un uomo del parrucciere, lo vedo che ha setato, che ancora continua a ascoltare, ameluia, alleluia, non so se riesce ad ascoltare da dentro, ma gloria a Dio sta leggendo, ha letto il cartellone, fapello, gloria a Dio, addio va tutta la gloria, ameluia, che c'è sempre qualche anima, alleluia, Gesù, la mia, la verità della vita, credete in Gesù Cristo, alleluia, alleluia, solo Gesù ti può salvare, solo Gesù Cristo ti può perdonare, alleluia, avvicinatevi a Dio, e Dio ci avvicinerà a voi, amè, salvatevi da questa perversa generazione, alleluia, Gesù non è una religione, non è una maestro della domenica, accampa i tuoi angeli padre, alleluia, spezza le catene, tocca i cuori, alleluia, usano, non è un cosiddetto prete che ti può perdonare, alleluia, ma solo Gesù Cristo ti può perdonare tutti i tuoi peccati, alleluia, alleluia, solo Gesù, alleluia, solo in Cristo c'è salvezza, perdono, vita eterna, nel figlio di Dio, alleluia, alleluia, aggrappati a Gesù Cristo questo giorno, così riceverai la pace, alleluia, riceverai il perdono dei peccati, tramite Gesù, alleluia, figlio di Dio, travedetevi dei vostri peccati, alleluia, convertitevi al bandello, grazie Spirito Santo, alleluia, 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 amè, 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 per la gloria di Dio, Gesù è il guaritore, Gesù è il liberatore, alleluia, amè, amè, gloria al Signore, alleluia, oh gloria al tuo nome Padre, benedici, tocca questi cuori, eh, alleluia, gloria al Signore, Rebekind, Rebekand, shiklimsimi, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato, è scritto nella Bibbia, solo in Gesù c'è salvezza, c'è perdono e vita eterna, amè, signora, Gesù la vuole salvare, dopo questa vita di passaggio, c'è un'altra vita, alleluia, con l'inferno e il paradiso, ma chi crede in Gesù Cristo, avrà e riceverà la vita eterna, chi si perde dei peccati, chi accetta Gesù nel cuore, alleluia, tu non devi accettare una religione, tu devi accettare Gesù Cristo, il Salvatore, amè, anche tu che ascolterai, devi accettare Gesù il Salvatore, Gesù il Mediatore tra Dio e gli uomini, alleluia, gloria e Cristo, avvicinatevi a Dio, avvicinatevi a Gesù, alleluia, cercatelo e vivrete, alleluia, gloria a Dio, siamo qui in questo paesino di Vaiano, a me, gloria a Dio, per la gloria di Dio, cercate Gesù, avvicinatevi al figlio di Dio, Gesù è la risposta per la tua vita, Gesù, è morto sulla croce per i nostri peccati, alleluia, e il terzo giorno è risuscitato, solo Gesù Cristo ti può salvare, solo Gesù c'è salvezza, alleluia, 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 sì signore, dalla pace, la gioia, alleluia, gloria a Cristo, solo Cristo ti può salvare, ti può perdonare, ameno, avvicinate a Dio, e Dio si avvicinerà a te, in questa mattina, alleluia, in questo giorno, avvicinate a Dio, ameno, gloria a Dio, alleluia, avvicinate a Dio, accampate a Dio, la morte di vita, alleluia, solo Cristo è la speranza per voi, benedice, solo Gesù è la salvezza, Gesù può fare un miracolo nella tua vita, se tu credi in Gesù con tutto il tuo cuore, alleluia, 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 perciò accettatelo nella vostra vita, alleluia, accettatelo nel vostro cuore, il figlio di Dio, alleluia, 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 gloria a Dio, pregate fratelli, amè, questo paesino, c'è tanto bisogno, del messaggio, del Vangelo, gloria, al nome del Signore, intercedete per noi, gloria a Dio, alleluia, gloria al Signor, alleluia, 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 cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato, il tempo è compiuto, il Regno del Cielo è vicino, avvicinatevi a Gesù, solo Gesù è la speranza, solo Gesù è la salvezza, dopo questa vita di passaggio, c'è un'altra vita, alleluia, convertitevi, solo Gesù è la pace, cari di Vaiano, avvicinatevi al Messia, avvicinatevi a Dio, alleluia, e Dio si avvicinerà a voi, convertitevi, convertitevi, cercate, troverete, Gesù è il Salvatore per voi, alleluia, avvicinatevi a Dio, gloria al Signore, gloria a Dio, siamo qui, pace fratelli, questo paesino, a me, con mia moglie, la sorella Emanuela, ammè, alleluia, i miei guerrieri, solo Cristo è la risposta per la tua vita, nessuno ti può salvare dopo questa vita, Gesù è risuscitato il terzo giorno, alleluia, Gesù è risorto, pentitevi dei vostri peccati, prima che sia tardi per la vostra vita, credi in Gesù, chiedi perdono dei tuoi peccati, Gesù è la salvezza, Gesù è la speranza per voi, alleluia, il tempo è compiuto, avvicinatevi a Dio, alleluia, e Dio si avvicinerà a voi, convertitevi, salvatevi, da questa perversa generazione, da questo mondo corrotto, malvagio, alleluia, pieno di odio, pieno di peccato, alleluia, cercate, troverete, è scritto nella Bibbia, bussate, vi sarà aperto, il tempo è compiuto, avvicinatevi a Gesù, Gesù la vuole salvare, perdonare i vostri peccati, avvicinatevi a Gesù Cristo, pentitevi, pentitevi ragazze, dei vostri peccati, Gesù vi vuole perdonare, non peccate più, così riceverete il perdono, la vita eterna, convertitevi, alleluia, salvatevi, da questo mondo perverso, Gesù è la luce, alleluia, che Dio sgridi queste cose, queste feste del diavolo, l'halloween, nel nome di Gesù, i veri cristiani, non festeggiano, non festeggiano queste feste, guardate, sgridiamo questi oggetti del diavolo, nel nome di Gesù, i veri cristiani, non festeggiano, l'halloween, o allui, e noi lo sappiamo bene, alleluia, aggrappatevi a Gesù, la salvezza, alleluia, Gesù ti può perdonare i tuoi peccati, donna, pentitevi dei vostri peccati, non peccate più, altrimenti perirete all'inferno, se continuate a vivere nel peccato, non perdiate la vostra anima all'inferno, per il peccato, ma abbandonate il peccato, abbandonate l'adulterio, la fornicazione, i vizi, e avvicinatevi a Gesù Cristo, potrebbe essere tardi per te, oggi che ne sai, l'ultimo giorno della tua vita, chiedi perdono a Gesù in questa mattina, alleluia, avvicinati a Gesù, aggrappati a questo messaggio, aggrappati a Gesù Cristo, il Signore, alleluia, l'agnello di Dio, il Messia, il Salvatore del mondo, solo è luce e salvezza, c'è pace, c'è redenzione, vita eterna, solo in Gesù Cristo, alleluia, solo nel Figlio di Dio, c'è perdono, alleluia, gloria al tuo nome padre, gloria a Dio, amen, per questo cartellone fratelli, che Dio mi ha provveduto, così anche dalle macchine, possono leggere questo cartello, anche dalle macchine, gloria al nome del Signore, alleluia, gloria a Dio, Gesù Cristo è la risposta per la tua vita, cari di Vaiano, Gesù è la via, la verità e la vita, Gesù è l'amore, la pace, la gioia, Dio ti benedica, abbi fede, Gesù ha un piano per te, Gesù, gloria a Dio, per la grazia di Gesù Cristo, anche dei balconi ascoltano questo messaggio, a Dio va la gloria, alleluia, avvicinatevi a Gesù, avvicinatevi al figlio di Dio, alleluia, Gesù può perdonare i tuoi peccati in questa mattina, in Gesù c'è salvezza, gloria al Signore, è il Cordero di Dio, che chiede il peccato del mondo, Gesù l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, Gesù vuole entrare nella tua casa, nella tua famiglia, per liberarti dal peccato, per rompere la maledizione, e per mettere la benedizione, Gesù, la via, la verità, la vita, avvicinatevi a Lui, avvicinatevi a Gesù Cristo, alleluia, convertitevi, convertitevi, dalle vostre vie, e così riceverete il perdono dei peccati, la redenzione, la salvezza, la vita eterna, alleluia, gloria al Cristo della gloria, alleluia, alleluia, avvicinatevi a Gesù, avvicinatevi a Gesù, Gesù è la via, la verità è la vita, cari di Vaiano, avvicinatevi a Gesù, l'uomo, salvatevi, convertitevi, solo Gesù è la salvezza, anche per voi di Vaiano, solo in Gesù Cristo c'è perdono, non è una religione che ti salva, non è una chiesa, non è un uomo, è Gesù Cristo che ti salva, dall'inferno, dopo questa vita di passaggio, ascolta bene, c'è un'altra vita, o l'inferno è il paradiso, perciò riconosci che sei un peccatore, riconosci che hai bisogno di Gesù Cristo nella tua vita, del messaggio di Gesù, la via, la verità è la vita, alleluia, credete in Gesù, oh madonna, alleluia, avvicinatevi a Cristo, e la salvezza, la speranza, per l'umanità, lui ha dato la vita sulla croce, per i nostri peccati, il figlio di Dio, morì sulla croce, per i nostri peccati, alleluia, e il terzo giorno è risuscitato dai morti, amè, signora, non siete incredula, anche gli increduli, andranno all'inferno se non si ravvedono, anche gli increduli, dice la Bibbia, andranno all'inferno, alleluia, non essere incredulo in questo giorno, diventa credente, credente in Gesù Cristo, non in una religione, perché le religioni non ti salveranno, solo Gesù è la salvezza, solo Gesù Cristo è l'amore, avvicinatevi a Dio, Dio si avvicinerà a voi, alleluia, oggi è il tempo della grazia, domani potrebbe essere tardi, oggi è il tempo della grazia, dice la Bibbia, oggi è il tempo che ti devi pentire dei tuoi peccati, e accettare Gesù Cristo, alleluia,